Salve a tutti ragazzi, secondo episodio tanto atteso delle curiosità sui Simpsons, ora vi dirò le ultime curiosità. Le prime parole pronunciate dei ragazzi sono Bart per Lisa, Daddy per Maggie e Aicaramba per Bart. Deve sempre distinguersi Bart. Inspirazione per Cresti Clown è venuta a Groening da un pagliaccio di Portland, Cresti Nails. Il coniglio di pezzo di Maggie è il protagonista della striscia di comics di Groening Life in Hell. Codici dell'armadieto di Bart, scuola è 362426. Numero citato da l'ACDC nella canzone Dirty Deals Thunder T. Nonostante l'aspetto giovanile, Ned Thunder sarà in realtà 60 anni, un vecchietto arzillo. Simpsons sono nel Guinness dei primati, come serie da primetime più longeva e come serie con più guest star della televisione. I Simpsons hanno visitato tutti i continenti nel corso dello show. Anche gli altri membri della famiglia hanno un secondo nome che comincia per Jay, in omaggio alle creature di Jay Ward. Bart Simpson ha i piedi piatti, unica in tutta Springfield. Avete mai fatto caso che Cresti Clown non somiglia moltissimo a Homer? Infatti lui doveva essere la sua doppia identità segreta. Simpsons doveva essere escenariamente nero per vedere un errore nella colorazione. Però un servitore nero avrebbe scatenato non poche polemiche. Così è diventato giallo come tutti gli altri. Beh, forse non proprio tutto. Una delle gaga più conosciute della serie è quella in cui Bart telefonava un irrascibile barista. Chiedendo di parlare con clienti dei nomi fettici. Molti non sanno che questa usanza arriva da una cosa veramente successa negli anni 70. Dove due personaggi, dopo aver visto un barista che era un ex bucina, in carico con un cliente perché non beveva abbastanza velocemente, iniziarono a vista la sua tendenza a scattare, chiamarlo chiedendo di parlare con persone come peperone o alcoli e godendosi le sue relazioni. Mentre era ancora in carica il presidente Bush, padre, nel 1992, ha tenuto in un discorso ufficiale in cui dice che i Simpson non erano un buon modello per l'America. Infatti con il suo mandato stava cercando di rendere le famiglie americane più simili a una, a parentesi, famiglia americana molto conosciuta, proprietaria di una catena di supermercati, che non ai Simpson. Chiaramente non si vuole molto perché il presidente comparisse come personaggio all'interno della serie in una parovia. Detta dallo stesso creatore della serie, ci sono tantissime le persone che gli chiedono dove si trova i radar Springfield, la città in cui Simpson sono ambientati. La risposta è data in diversi episodi e tra l'altro anche nel film del cinema. La cosa più divertente è che le versioni non combassano mai tra loro, sono sempre diverse. In America esistono circa un centinaio tra cittadini e paesi chiamati Springfield. L'ipotesi comunque più accreditata è che si trovi nell'Illinois... Lino... Lino... Lini... Quello. Molti pensano che la cappellettinatura cilindrica dei cappelli di Marge sia dovuta alla pettinatura tipica di che molte donne avevano alla fine degli anni Ottanti. In realtà l'ediatore della serie ha sempre pensato di rivelare la verità su Marge nell'ultimo episodio dei Simpsons, cosa impossibile visto che non è ancora finito. Ma gli autori non hanno mai voluto, Tosi sono sempre posti alla cosa. La verità si scoppa nel videogioco del Simpsons Arcade, uscito ormai una decina di anni fa. Marge perché da coniglio le tiene nascoste nei capelli. Ehm... trauma. Lo so. L'episodio più visto in assoluto dei Simpsons si chiama Bard e Rischiagrosso, ed è il primo episodio della seconda stagione, e si concentra per la prima volta su questo popolare personaggio. L'episodio invece meno visto in assoluto della storia è La Gran Simpsena, un episodio in cui Lisa che parla con la magia. In questo caso è una delle ultime stagioni che sono le più brutte in assoluto. Lisa no. Però Lisa non è neanche uno dei personaggi più popolari, e questo ha sicuramente influito. James Elberux, produttore della serie, ha stabilito con la Fox una cosa speciale che impedisce la rete di esercitare qualunque tipo di controllo su Simpsons a livello creativo. Non è un caso che spesso negli episodi la Fox venga apertamente presa in giro. Sicuramente i fan avevano gentuito che Smithers, l'assistente del senior Bans, fosse della trasponda. Ma il coming out vero, proprio, è venuto soltanto nella ventisettesima stagione, cioè nel 2014. Gli autori non avrebbero voluto, lasciando che gli spettatori col dubbio. Ma il figlio dello scrittore dell'episodio ha fatto coming out nella vita reale, e poiché sembrava una cosa naturale, ha voluto mettere la scena anche in una serie televisiva. Un amore mai ricambiato dal suo caso. Oh, you touch my ta-la-la. Non era l'unica ad avere delle battute in ogni episodio. Rayone Latta fermò di essere un avvocato lavorato a Princeton, un'università che nella realtà non ha corsi di giudizioni sprudenza. Il nome completo di Selma, dopo i matrimoni, è Selma, Bouvier, Terwilliger, Atta, McClure, discoteque, Simpson, Amico. Indecisa la donna. Il dubbiatore americano di 3 McClure stava pensando di fare un film incentrato solamente sul personaggio di 3 McClure, ed era anche pronto ad acquistare nei diretti. Però, purtroppo, la morte del dubbiatore ha interrotto i suoi protetti. E il personaggio è stato anche tolto dalla serie. Ok, ragazzi, le curiosità sono finite qui. Spero vi siano piaciute, lasciate un pollisonissimo in su. e ci vediamo nei prossimi video di curiosità o anche gameplay, che tanto abbiamo più quelli che altri. Quindi, guardateli, cosa vogliate che vi dica. Ciao a tutti!